Buonasera e benvenuti al palarigopiano di Pescara. Inizia in questo istante Acqua e Sapone, Unigros, Caos, Mantova, Salas, Dimash, Poletto, Prado, Parrell, Goumenyuk. Attenzione qui a Nicolodi che trova il gol! Pallonetto d'esterno, millimetrico, 28 secondi. Nicolodi, 1-0 per l'Acqua e Sapone. Recupera Cocco il pallone, Avellino serve a Chesulito, gran palla, Chesulito sinistro. Morbido lo scavino di Chesulito che non trova la porta. Ma la palla è di Mammarella che fa ripartire i suoi. Chesulito, Jonas, che trova col destro! Un'indecisione di ricordi! 2-0 per l'Acqua e Sapone, Unigros, 11 minuti e 20. Jonas Pinto, 10 e lode, il decimo gol del campionato. Sia a livello fisico che mentale, quindi sta facendo una grande... Abbiamo visto una gran parata di Mammarella. Ancora Dimash al limite, difende il pallone, aspetta l'inserimento di Parrell, qui una buona giocata. Vediamo la soluzione del Caos Mantova, la palla è sull'altro palo per Dimash, il destro di Dimash, Mammarella. Mammarella, Mammarella che è parata! Salva l'Acqua e Sapone a due minuti dalla fine del primo tempo. Finisce il primo tempo. L'angolo battuto da Dimash all'indietro per l'Eleco col sinistro! C'è una deviazione che sorprende Mammarella. E il Caos accorcia dopo tre minuti del secondo tempo. Si gioca sul filo del dettaglio dell'episodio. Murillo va giù, Poletto commette fallo, poi Murillo... E qui Parrell si mangia un gol incredibile. Dudu, bella palla di ritorno per Murillo, che sterza, calcia col sinistro, ancora ricordi. E Murillo che salta a Dimash, serve Calderolli, palla indietro per Jonas, scarica il destro Jonas! Deve fare attenzione, non concedere il tiro libero al Mantova. Murillo fa una gran giocata, qui Coco che va giù, dentro l'area, protestano tutti qui al palarigopiano. Attenzione, Jonas! Attenzione, qui invece ha di guida che colpisce un palo pazzesco. Ma ci sono proteste da tutta l'Acqua e Sapone e tutto il palazzetto. Perché Nicolodi a un metro dalla porta è andato giù mentre stava calciando. Ancora Dimash, Mammarella con i piedi e poi Avellino. Guadagna la rimessa laterale a tre secondi dalla fine e finisce così. Finisce con il gol di Capitan Murillo. 3 a 1. L'Acqua e Sapone e Unigros batte il Chaos Mantova e chiude col botto il 2019. Sì! 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 Sì!